Ciao, sono Andrea Peron e oggi vi parlo della Salopet Bodyfit. Questa Salopet è stata sviluppata insieme agli atleti del Team Saxo Team Kofa. È una Salopet realizzata in due tipi diversi di licra. Abbiamo una licra nella parte centrale di 210 grammi e una licra più pesante esterna che garantisce una migliore compressione muscolare e una massima penetrazione aerodinamica grazie alla sua struttura a pallini. Anche il fondo gamba è innovativo, è realizzato con un tessuto doppiato e una stessa tutta sottile di silicone. Sono le bratelle classiche in rete ed hanno un taschino porta radio. Anche il fondello è stato sviluppato insieme agli atleti del Team Saxo Team Kofa. Realizzato con spessori differenziati, senza cuciture e quindi è ideale anche per utilizzarlo nelle lunghe distanze. La Salopet Bodyfit dà una massima garanzia di aerodinamicità e comfort.